E' incredibile sì, perché fino a un mese fa ero fuori dai giochi, quindi per riconquistare questo pass che a Doha non l'ho preso, diciamo, ed è stato duro, è stato un periodo per arrivare qua, difficile. Ci chiedi scusa, ma dopo la fatica avete fatto e per quanto vale tutto questo, anche emotivamente, non ti devi assolutamente scusare, la commozione è il minimo, ci hai creduto, su sei la dimostrazione che bisogna crederci fino alla fine, hai colto questa qualificazione nell'ultimo momento possibile. Sì, diciamo che come diceva Stefano, non è mai finita fino a che non tocchi il tabellone, quindi anche dopo Doha mi diceva non è ancora finita, c'è una possibilità, però diciamo che il 1.5 non era proprio nelle mie corde, quindi era una cosa abbastanza impossibile. Comunque Doha sapeva che era difficile, perché non era una gara comunque nelle mie corde, è più una gara così che riesco a gestire meglio, ovviamente non pensavo sicuramente di prendere la medaglia, però è stato bellissimo. Non pensavo di prendere questa medaglia, ma l'hai toccata, non ci credevo ancora, ho detto magari c'è qualcuno davanti, non lo so, quando ho visto il tabellone ho detto, meno male, però fino a che non l'ho toccata non ci credevo. Prova a descriverci, vedevamo la corrente contraria che vi spostava proprio. La corrente era terribile, c'è stato il tratto in cui entravamo a quest'altro ponte qua vicino, che entravamo laterali, e ti risucchiava da qualche parte dentro una specie di imbuto, quindi quello era il pezzo peggiore, perché rimanevi incastrato là. E ovviamente c'è poi a favore, io con una frequenza di bracciata molto alta andavo abbastanza tranquilla, il ritorno è comunque di potenza, ne ho molta poco, quindi praticavo molto di più. Però era una gara veramente di tattica e io ho cercato, comunque appena ho visto che l'Astraliana e Sharon stavano scappando, ho detto qui è meglio se sto allerta. Sei stata allerta, sei stata brava, non l'hai mai mollata, sei stata sulle sue caviglie per tutta la gara? No, ho cercato all'ultimo giro, magari a dire a Moesh, ho detto cerchiamo di staccare ancora e se siamo noi tre cerchiamo di aumentare il divario. Quindi ho provato un pochino a mettermi davanti ma ero cotta, ho detto resisti, cerca di staccare con loro e cerca di finirla così. Che valore ha questa medaglia? Crederci sempre e poi? Non me l'aspettavo, diciamo che il mio allenatore sicuramente era quello che ci credeva di più. E' stato mesi difficili con lui perché dopo Doha è stato dura, diciamo anche l'allenatore e venirmi incontro è stata dura per lui. Però devo ringraziare sicuramente Matteo, il mio fidanzato che mi è stato vicino in questi mesi come nessuno mi è mai stato vicino e se sono qui è sicuramente grazie a lui comunque. E molto grazie a te, a quanto ci hai messo dentro a tutto, anche all'allenamento, all'impegno e a questo fatto di non perderti d'animo. No, avevo una testa che comunque non mi sono mai adagiata, anche quando Arianna è stata fermata, per me mi dispiaceva un sacco per lei, comunque aver guadagnato quello che aveva guadagnato, dopo tutto che l'aveva passato. Arianna Bridi che si era qualificata e che poi per problemi di salute... Dopotutto l'aveva passato, per me il pass, a me me l'hanno fatto sudare perché anche se lo prendevano era detto e mi ci mettevano. Ho dovuto andare contro tante cose, ho sempre notato in questi anni controcorrente, sempre cercando di dover dimostrare sempre qualcosa, se no non bastava mai. Però ho voluto continuare così fino alla fine, a me il pass di Arianna non mi importava, per me era suo, potevano portare chiunque altro e se c'era un altro modo per guadagnarmi nemmeno sarei voluto guadagnare. E così ho fatto. C'è una dedica per questa medaglia di bronzo? Sicuramente ai miei genitori, ma ripeto tanto la dedico a Matteo che penso che mi ha fatto benissimo in questi mesi e senza di lui sono sicura che non ero qua. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.